va beh ecco per esempio il posto più strano dove hai fatto l'amore qual è il posto più strano non ci crederai ma è stato su una lavatrice non è che sia poi tanto strano e no però se consiglio che stiamo nella vetrina dei troni non ti dico tutto quello che passava i bambini fiscali per non volevo mi sono sentito una star voleva andare perché l'autografia devo firmare come una cosa io ne so